partita per la vita la nazionale italiana calcio trapiantati tornerà in campo il 2 giugno a rivergaro nel 2023 in provincia di piacenza sono state donate 80 corne 21 organi e un tessuto 46 i donatori complessivi alla scuola idile di piacenza 12 minori stranieri non accompagnati impareranno il mestiere del muratore il novantenne è stato raggirato da una finta turista che è riuscita a entrare in casa ma la moglie dell'anziano ha sventato la truffa nuovo rettore per l'università cattolica la procedura è iniziata e la nomina è prevista il 24 luglio sostituirà il piacentino franco anelli calcio e solidarietà seconda edizione per il memorial chicco maggio che da domenica prenderà il via al campo comunale di gropparello e proseguirà per tre settimane queste tutte le altre informazioni in tempo reale sul nostro sito liberta.it